ciao ragazzi e benvenuti nel quinto video del corso che abbiamo preparato per imparare a sviluppare un trading system con la visual jforex in questo video e nel prossimo impareremo le basi della piattaforma abbiamo pensato di separare la trattazione in due video in quanto si tratta di molto materiale in questo modo magari evitiamo di addormentarsi davanti al monitor apriamo quindi la piattaforma la visual jforex facciamo il login con l'account della community come abbiamo visto nello scorso video e se ve lo siete dimenticato vi lascio il link qui in alto e ci vediamo subito dopo la sigla bene di fronte abbiamo la visual jforex come abbiamo visto nello scorso video partiamo analizzando le varie sezioni cominciando dall'alto in alto abbiamo il menu che contiene le voci file compiler e help all'interno di file c'è il comando new che serve per creare una nuova strategia open draft per aprire strategie già già create e salvate save draft per salvare la strategia su cui stiamo lavorando import per importare altre strategie export per esportarle in linguaggio java poi utilizzabile dalla jforex 3 o in formato vfs che quindi è visibile solo tramite la visual jforex in compiler c'è il comando run che serve come vedremo più avanti nei prossimi video per eseguire dei backtest build serve per creare il file nel linguaggio leggibile dallo strategy processor per eseguire appunto i backtest contest che ci serve per accedere al contest organizzato da ducascopy che vedremo nei prossimi video e poi view source che ci serve per vedere la strategia esportata in linguaggio java infine in help vediamo tutte le varie fonti formative che ci mette a disposizione ducascopy a questo punto possiamo quindi andare in file new e creare la nostra prima strategia e la chiamiamo ad esempio strategia e clicchiamo su create bene subito dopo il menu c'è l'elenco con tutti i tab che rappresentano le strategie che abbiamo aperte in questo momento quindi ci sarà la strategia di default e la strategia chiamata strategia che abbiamo appena creato e su cui lavoreremo sotto l'elenco dei tab troviamo la toolbar che contiene sette pulsanti il primo a sinistra open draft è l'equivalente di file e open draft ci apre la cartella in cui abbiamo salvato tutte le strategie già già create già realizzate subito sulla destra c'è save draft che è l'equivalente di andare in file e save draft saltiamo add note create group create new variable e create new variable group che vedremo più avanti e saltiamo in run strategy che è l'equivalente di andare in compiler e cliccare su run che ci serve per accedere allo strategy processor eseguire un back test della strategia sotto la toolbar abbiamo le tre zone principali della visual g forex sulla sinistra l'area dedicata alle variabili in centro il workspace ovvero lo spazio di lavoro in cui andiamo a creare le nostre strategie e sulla destra i repository con tutti i blocchi che vanno visti come i mattoncini che collegati l'uno all'altro costituiscono il trading system guardiamoli uno alla volta partendo dalla zona centrale nel workspace sono sempre presenti tre blocchi tre blocchi importantissimi chiamati start points questi sono long candle, long tick ed il trade event e rappresentano i tre blocchi principali che definiscono il funzionamento della strategia e quindi vanno sempre utilizzati in particolare quando utilizzo come start point long candle vuol dire che voglio che la mia strategia venga eseguita ad ogni candela che può essere ad esempio quella da 10 secondi quella di un'ora o quella di un mese invece al contrario con il blocco on tick voglio che la mia strategia venga eseguita ad ogni nuovo tick quindi ad ogni nuova quotazione dello strumento finanziario infine con lo start point 3 event la strategia viene eseguita ad ogni nuovo evento o meglio con evento si intende ogni nuovo messaggio generato dalla piattaforma che può essere ad esempio quello di apertura o di chiusura di un ordine questi tre star points possono essere collegati a qualunque blocco e a ogni blocco possono essere collegati più star points come vedremo più avanti andando su uno di questi tre blocchi dello star points e cliccando sulla i in basso a destra del blocco si apre una finestra con la descrizione di questo blocco questa è una funzionalità presente in tutti i blocchi presenti nella visual g4x ed è molto utile per capire le funzionalità di uno specifico elemento senza andare sul manuale o senza andare sul sito dove sono presenti le descrizioni di tutti i blocchi da un punto di vista più operativo ruotando la rotellina del mouse posso zoomare avanti e indietro e cliccando col pulsante sinistro posso straslare spostandomi da una zona all'altra del workspace infine in basso a destra cliccando sul pulsante chiamato navigation si apre un riquadro che mostra il workspace nel suo complesso molto utile per riuscire a orientarsi quando le strategie diventano complesse cliccando poi sul pulsante ancora più a destra chiamato 100% zoom si ripristina lo zoom del workspace a valore di default 100% e cliccando e trascinando il mouse sulla barra dello zoom ancora più a destra posso zoomare in in e out ora capito cos'è il workspace spostiamoci più a destra nella zona chiamata repository all'interno del repository troviamo tutte le funzioni e i blocchi che possiamo utilizzare per costruire le strategie in particolare quest'area è divisa in tre aree diverse gli indicatori, indicator, le strategie, strategy e i componenti, components poi ci sono altri due icone nella prima quella più in alto chiamata most used sono contenuti i blocchi più utilizzati fondamentalmente come un collegamento rapido mentre in fondo in quella indicata con all blocks sono raccolti tutti i blocchi ordinati per tipologia e in ordine alfabetico vediamo cosa contengono più nel dettaglio le categorie indicators, strategy e components che sono le più importanti all'interno della categoria indicators troviamo tutti gli indicatori disponibili suddivisi in nove categorie in base alla tipologia di indicatore se clicchiamo ad esempio sulla categoria MA che significa moving average vediamo sulla sinistra tutti gli indicatori basati sull'utilizzo di medie mobili ora per costruire le nostre strategie è sufficiente cliccare su uno di questi indicatori e trascinarlo all'interno del workspace in questo modo nel workspace si crea un blocco collegabile a uno dei tre start point per fare in modo che questo venga eseguito dalla strategia cliccando come prima sulla i che compare in basso a destra dell'icona della strategia si apre una finestra con la descrizione dettagliata del blocco questo vale per tutti i blocchi e come ho già detto prima è molto molto utile passiamo ora alla seconda categoria all'interno dei repository quella indicata con strategy all'interno troviamo tutta una serie di strategie pubbliche suddivise per tipologia l'unica sezione privata è my strategies in cui troviamo solo le nostre strategie non tutte le icone pubbliche contengono strategie alcune sono vuote però se clicchiamo su intraday o trend troviamo delle strategie di esempio che è possibile analizzare una sezione interessante è la contest infatti qui troviamo tutte le strategie utilizzate nei vari contest mensili organizzati da ducascopy se ne selezioniamo una a caso e la trasciniamo nel workspace si crea un blocco che racchiude al suo interno il funzionamento della strategia inoltre se clicco col pulsante destro del mouse sull'icona di una qualunque strategia e seleziono load vfs si apre la strategia completa sviluppata con la visual geforex e questo è uno strumento molto utile per vedere come gli altri sviluppatori hanno costruito il loro trading system ora passiamo all'ultima categoria component che è fondamentale per la costruzione dei trading system e contiene i blocchi suddivisi in 6 categorie info, logical, mathematical, miscellanus, adar e trading ora non le analizziamo tutte perché è più utile affrontarle quando realizzeremo la strategia comunque ad esempio in trading sono contenuti i blocchi che ci servono per posizionare o gestire gli ordini in logic sono contenuti i blocchi utilizzati per creare le condizioni logiche di apertura e chiusura di un ordine come il blocco if e in matematica sono contenuti i blocchi necessari per eseguire operazioni matematiche come per gli indicatori è sufficiente cliccare su uno di questi blocchi e trascinarlo nel workspace e collegarlo agli altri blocchi o agli star point per includere nel funzionamento del trading system per finire cliccando sul triangolo singolo in alto posso far scomparire completamente i repository mentre con i due triangolini ridico parzialmente le dimensioni questo ovviamente per guadagnare spazio nel workspace ora che abbiamo inserito un po' di blocchi nel workspace vediamoli un po' più nel dettaglio non ci soffermiamo su ognuno vedendolo nel particolare questo lo faremo quando costruiremo il trading system però vediamo alcuni elementi comuni che hanno tutti i blocchi per capire come devono essere utilizzati generalmente tutti i blocchi sono strutturati con tre aree input values, output values e setting in input values come dice il nome vanno inserite le variabili di ingresso che definiscono il funzionamento del blocco come ad esempio il numero di periodi su cui calcolare la media mobile per il blocco della media mobile in output values si definisce la variabile di uscita quindi ad esempio la variabile che conterà il valore della media mobile ed infine in setting si definiscono le caratteristiche specifiche per il funzionamento del blocco sempre prendendo l'esempio della media mobile è necessario definire il prezzo su cui calcolare l'indicatore quindi o bid o ask e se il calcolo deve essere eseguito sul prezzo di apertura, chiusura o sul massimo minimo della candela tutti i blocchi hanno un punto di ingresso e uno più punti di uscita il punto di ingresso va sempre collegato o a uno star point o a un altro blocco per rendere il blocco operativo all'interno della strategia mentre il punto di uscita non va necessariamente collegato ad altri blocchi dipende dalla strategia, dalla tipologia di blocco e dalla funzionalità del blocco all'interno della strategia ogni blocco poi in alto ha una barra colorata che è verde quando tutte le variabili di ingresso e di uscita sono definite mentre è rossa se almeno una delle variabili non è definita nell'esempio del blocco calculation se inserisco nelle due righe di input un numero qualunque e quindi ne definisco le variabili di ingresso e crea una variabile di uscita ho definito tutte le variabili di input e output e quindi la riga è diventata verde e il blocco è diventato utilizzabile le quattro icone che vedo appena sotto la riga colorata partendo da sinistra servono per interrompere la strategia quando l'esecuzione arriva a questo blocco questa funzionalità è utile per cercare eventuali errori di compilazione del trading system con il secondo pulsante elimino tutti i collegamenti agli altri blocchi con il terzo riduco la dimensione del blocco per risparmiare spazio e infine con la X elimino il blocco un'altra informazione utile se clicco sulla barra verticale colorata dei tre star point si colorano tutte le linee di collegamento dei vari blocchi che partono da quello star point questo è utile per verificare a quale star point è collegato un blocco e anche per controllare di non essersi dimenticate di collegarne qualcuno per questo video fermiamoci qui sulla visual gforex c'è ancora molto da dire e continueremo a parlarne nel prossimo video ovviamente se questo video vi è piaciuto avete trovato le informazioni utili vi chiedo di lasciare un bel like per supportarci inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per essere informati non appena usciranno i prossimi video di questo corso o di tutti i vari argomenti che parleremo in questo canale io con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video a presto